Siamo a Forlì e stiamo preparando una cenetta leggera leggera. Questo è il nostro fornetto su cui stiamo riscaldando il pane che abbiamo portato da Roma. Questo è l'accompagnamento con prosciutto e pomodorini. Abbiamo fatto già l'antipasto con polipo bollito a insalata e condito e cacciofini sott'olio. Fatto il pane leggermente a bruschetta. A parte nel fornetto abbiamo messo le uova senza olio e senza niente. A cucinare nel fornetto a fuoco lento. La piastra è chiaramente già preriscaldata. Due o tre minuti e le uova saranno pronte. Ecco che le uova sono quasi pronte. Si vede il bianco che ha coperto il tuorlo. Nel nostro fornetto comprato in una delle fiere paesane che visitiamo. Ed ecco due uove al tegame con prosciutto, pomodorini e pan a bruschette. Il pane è fatto a bruschette. Un Chianti di una continua, un Chianti però vecchio, non è di ultima produzione. Non abbiamo comprato adesso roba di acquisti precedenti. Domani invece attacchiamo con bottiglioni da tre litri della lacrima di morra appena comprata. Il pranzo è terminato. Questo lo potete trovare per rivederlo sul canale YouTube Cucina in Camper.